ciao a tutti e benvenuto ad un nuovo episodio della finanza amichevole oggi credo sia fondamentale parlare di un tema di assoluta attualità lo spread tutti i giorni siamo bombardati da notizie tv e telegiornali sull'andamento dello spread credo che non sia molto chiaro di che cos'è lo spread e quelli che sono i rischi con l'andamento dello spread prima di tutto lo spread è un indicatore economico che la differenza in percentuale tra il titolo di stato tedesco a scadenza 10 anni in quanto considerata la germania il paese più solido a livello europeo e lo stesso titolo di stato a scadenza 10 anni di un altro paese ovviamente prendiamo in considerazione quello dell'italia l'aumento dello spread cosa comporta comporta il fatto che per chi investe in italia aumenta il rischio di credito e quindi chi investe in titoli di stati italiani con l'aumento di questo spread ha un rischio maggiore di conseguenza i tassi di interesse che io ho a investire su un paese che ha un maggior rischio sono più elevati questo aumento comporta che tutte le nuove emissioni dei titoli di stato italiani debbano subire un aumento dei tassi di interesse causa questo aumenta il debito pubblico perché lo stato deve pagare maggiormente di interesse agli investitori che sottoscrivono i titoli di stato quindi se lo guardiamo sotto certi aspetti è un gatto che si morde la coda aumenta lo spread aumenta gli interessi aumenta gli interessi aumenta il debito pubblico qual è oltretutto la conseguenza sui risparmiatori ma soprattutto su chi deve avere accesso al credito per finanziarsi o che sia un mutuo un'automobile o un'azienda che deve finanziarsi questo aumento di spread e conseguentemente il rischio comporta anche un aumento dei tassi di interesse sui finanziamenti di nuova emissione non quelli che già avete quelli che vengono emessi da ora in avanti e mi riferisco soprattutto ai mutui prestiti a tasso fisso quindi il vostro mutuo a tasso fisso non cambia contrattualmente rimane lo stesso il vostro mutuo tasso variabile che è sicuramente legato all'euribor che è un tasso europeo rimane sostanzialmente stabile quindi quando sentite alla televisione che i vostri mutui i vostri aumentano perché aumenta lo spread non si riferisce a quello che già avete ma a quelli che vengono emessi da ora in avanti questo però che cosa comporta che se io devo andare a finanziarmi e pagare più interessi ho meno possibilità e soprattutto mi rimane meno soldi da poter spendere per far girare l'economia quindi è per questo che lo spread è tossico per l'economia soprattutto l'aumento dello spread poi se vogliamo possiamo entrare nel merito se a volte sia pilotato o meno sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista di shock improvvisi come c'è stato in passato con eventi terroristici o cose di questo tipo però questo non spetta a noi giudicare spetta a noi capire soprattutto quando veniamo bombardati da questi messaggi che cosa significano spero di essere stato chiaro su quelle che sono le variazioni e che cosa comporta l'aumento dello spread quindi più basso è meglio si sta sia da un punto di vista di solvabilità e di sicurezza la citazione di oggi è un po generica il fattore chiave che determina il tuo futuro finanziario non è l'economia il fattore chiave è la tua filosofia jim ron rendiamo la finanza amichevole alla prossima